Nuove risorse professionali per i giovani siciliani nell'ambito del programma Garanzia Giovani attraverso l'avviso dell'assessorato regionale al lavoro pubblicato lo scorso 28 gennaio. Sono tanti già i giovani, circa 140, che sono stati avviati ad un'esperienza lavorativa per un periodo di sei mesi nell'ambito dei tirocini extracurriculari. I 140 giovani hanno trovato spazio in aziende operanti in quasi tutto il territorio provinciale. A svolgere il ruolo di intermediaria, la CNA di Agrigento, che tramite i suoi uffici ed il personale qualificato ha messo in contatto i tirocinanti e le aziende interessate ad accogliere al loro interno, a costo zero, nuove risorse professionali. Soddisfazione per l'andamento di questa prima tranche è stata espressa dal presidente della CNA di Agrigento, Mimmo Randisi. Per le impresse che noi rappresentiamo, dichiara Randisi, si tratta di poter disporre di una maggiore forza lavoro, ma anche di offrire ai giovani la possibilità di essere adeguatamente formati sul campo e di acquisire le necessarie competenze senza alcun vincolo di successiva stabilizzazione. L'auspicio del presidente della CNA Randisi è che il momentaneo rapporto di collaborazione che si è instaurato prosegua e si trasformi per l'impresa in un ulteriore slancio in termini di organizzazione e funzionalità della struttura. E per il tirocinante, che oggi riceve 500 euro al mese per 180 giorni, in una serie prospettiva occupazionale. Ci sono ancora fondi a disposizione e quindi nuove possibilità per i giovani, rassicura Mimmo Randisi. La Confederazione Nazionale per l'Artigianato Agrigentina continua ad offrire il supporto tecnico per assicurare un'attenta applicazione dell'iter procedurale a beneficio delle imprese e dei giovani dai 18 ai 29 anni che vogliano aderire a questa opportunità data dal programma Garanzia Giovani.